I colpi avversi La civiltà dello spirito attraverso Pietro Ubaldi. Senza tale immanenza di Dio l'essere sarebbe perduto. Anche i colpi avversi hanno un significato utile e costruttivo. La protezione vi è sempre anche in fondo all'apparente abbandono e la salvezza in fondo a qualunque sconfitta. In ogni essere vi è la vita che in lui difende se stessa. Tutto, anche il male e il dolore, è nelle sue mani strumento di ascesa. La vita è forza positiva, sempre costruttiva, anche attraverso la distruzione. Essa vuole educarci sempre per farci salire anche attraverso il fallimento. Tutto è salutare e salutifero. Tutto è sempre perfetto, tendente al meglio, per la via del minimo mezzo, col minimo sforzo e il massimo risultato. Il nostro umano punto di vista è troppo limitato per permetterci di comprendere e giudicare. La vita sa salvarci anche attraverso la morte. Noi vorremmo imporle i nostri piccoli fini immediati ed essa lavora lungimirante, per fini lontani che non vediamo, con una sapiente gerarchia di scopi di cui noi miopi non scorgiamo che i prossimi. Ma essa è giusta. Ogni dolore viene pagato, ogni sforzo compensato, ogni esperienza ci arricchisce, ogni fatica è premiata. Se siamo qualcosa oggi è perché la vita ci ha prima imposto di guadagnarcela con il nostro lavoro. Essa vuole formare l'essere. E anche quando sferza, lo fa per il bene nostro. Conciò Dio è sempre presente in ogni cosa e in noi. La profonda coscienza della sua costante presenza in ogni cosa e in noi sia il nostro più grande conforto e la nostra forza. Grazie a tutti. Grazie a tutti